C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano Magaze.it, cronaca, politica, sport, cultura, eventi Magaze.it, da voce al cuore della Sicilia www.magaze.it, il quotidiano online dei Monti Sicani Cos'è il DASPO? Il DASPO è un divieto che dà il questore di assistere a manifestazioni sportive in particolare a partite di calcio perché poi la fase è più diffusa quindi è il divieto di assistere a partite di calcio o a tutti i tipi di manifestazioni sportive ovvero soltanto a quello di alcune squadre Nel caso che ci riguarda, che poi è quello che riguarda le nostre comunità sia di San Giovanni che di Cammarata il questore di Agrigento ha vietato a taluni soggetti di partecipare a le partite quindi di assistere alle partite o del Camarata o del Gemini in questo caso la particolarità ancora maggiore è che non soltanto ha colpito alcuni tifosi ma alcuni dirigenti della società o anche alcuni tesserati, giocatori e allenatori per cui non è soltanto di assistere a quel punto ma è di partecipare pure alla partita accanto al DASPO per rendere effettivo questo divieto il questore ha pure prescritto che le persone colpite dal DASPO non si presentino quindi alla partita e che si presentino invece in un posto di polizia per firmare al decimo e al quarantesimo di ogni tempo quindi sia del primo che del secondo tempo proprio per dimostrare che il soggetto non si trova alla partita ma si trova in un posto di polizia a firmare quindi c'è da un lato un divieto amministrativo che è quello di assistere alla partita e questo è un divieto come tutti i divieti amministrativi ricorribili davanti al TAR e accanto c'è pure un obbligo di firma che è evidentemente limitativo della libertà personale Ecco appunto parliamo del ricorso si può produrre un ricorso contro questo provvedimento? Sì il ricorso deve essere comunque garantito perché la norma della Costituzione garantiscono che ciascuno possa difendersi in giudizio come dicevo poco anzi il cittadino che è stato colpito dal DASPO può sia rivolgersi al TAR contro il divieto quindi contro il divieto di assistere perché è un provvedimento ripeto amministrativo e può rivolgersi anche alla magistratura penale perché il DASPO quindi la prescrizione in particolare dell'obbligo di firma deve essere convalidato come è stato nel caso nostro convalidato dal GIP a quel punto la persona ha la possibilità di ricorrere in Cassazione quindi c'è una strada amministrativa davanti al TAR e una strada penale davanti alla Corte di Cassazione a mio avviso oltre a queste due strade maestre c'è la possibilità o di fare un ricorso in autotutela al questore se vi sono degli errori madornali particolari conclamati di individuazione di persone di errori di persone di errori nella ricostruzione dei fatti quindi ricorrere al questore che in via di autotutela potrebbe anche rivedere il provvedimento o comunque modificarlo ovvero ricorrere di nuovo al GIP in via di revoca per chiedere di revocare la convalida del provvedimento dell'obbligo di firma queste sono le strade che colui che è colpito dal DASPO può percorrere il guaglio però è come dimostrare le straneità ai fatti perché il DASPO colpisce chi ha partecipato o comunque reso possibile episodi di violenza nel corso di manifestazioni sportive non soltanto partecipato ma che ha assunto nel corso di manifestazioni sportive degli atteggiamenti violenti o che inducono la violenza quindi non soltanto in senso fisico ma anche in senso verbale con i cori con gli striscioni e sono stati casi anche diciamo rinomati a livello nazionale per cui il coro o lo striscione può essere anche passibile di DASPO perché induce alla violenza perché induce a episodi comunque di scontri negli ultimi tempi il DASPO è diventato ancora più diciamo terribile per chi lo subisce perché non occorre una denuncia mentre prima chi era colpito dal DASPO doveva essere comunque denunziato dall'autorità giudiziaria e quindi doveva subire un procedimento penale oggi non occorre più nemmeno la denuncia e quindi sostanzialmente del soggetto potrebbe non avere nessun tipo di procedimento penale ma allo stesso tempo essere colpito dal DASPO e quindi per diversi anni perché il DASPO è da 1 a 5 anni doversi presentare alla polsa di polizia ogni volta che la propria squadra gioca ogni volta che il questore ha stabilito che deve presentarsi all'obbligo di firma grazie Avvocato è stato chiarissimo e grazie sempre a Magazze per quello che fa per gli sportivi grazie grazie e buon lavoro grazie a tutti